A nulla sono valsi gli appelli, le proteste e i sit-in. Il cantiere è stato allestito e questo tratto di ciclabile che va dal Ponticello fino all'intersezione con l'ingresso della stradina che conduce a Viale Romagna rimarrà chiuso fino al prossimo 31 maggio. Il comune dunque tira dritto all'Arzilla di Fanno nonostante le lamentele di chi ha definito il progetto un vero e proprio scempio ai danni dell'ambiente. Claudio Razzi della Lupus in Fabula questa mattina ha ripercorso tutte le vicende che si sono succedute e che sono iniziate nel 2017 con le richieste di messa in sicurezza. L'anno successivo, ha detto, il Consiglio Comunale modificò una parte del progetto preliminare lasciando inalterato quanto previsto per questo segmento e cioè una pista larga 4 metri, una cestonata sulla scarpata alta 5-6 metri e lunga 70, oltre all'abbattimento delle piante nell'argine sinistro. Da lì sono iniziate le tante manifestazioni e gli incontri con il sindaco e l'assessore Tonelli. È stato praticamente tutto inutile, siamo stati presi in giro, siamo stati ignorati. Il sindaco ci aveva promesso che avrebbe fatto un ulteriore sondaggio su questa scarpata perché come sapete, l'abbiamo già detto altre volte, una volta che il progetto è stato appaltato nel novembre scorso, nel 2021, esce fuori un studio geologico che dice che la scarpata è instabile. E quindi, secondo i progettisti, secondo ASET, occorre mettere per forza la gabbianata. Allora noi diciamo se è instabile il versante, è instabile da questo punto fino in cima, fino al ponticello. Allora la gabbianata va fatta dappertutto, altrimenti se non viene fatta dappertutto vuol dire che la scarpata non è instabile. E quindi si poteva fare quello che chiedevamo noi, ovvero una ciclabile più piccola, larga due metri, asfaltata, illuminata, sicura per tutti. E così, in modo da lasciare quello che è l'ambiente naturale, ovvero gli alberi che sono sulla scarpata. E quindi salvaguardare questo paesaggio che è una ricchezza per Fano. Invece pare che qui si vogliono fare ciclabili ovunque, tutte fatte allo stesso modo, con la scusa della sicurezza, ma la scusa della sicurezza diventa un pretesto per distruggere l'ambiente. Luciano Benini del Comitato Arzilla Resistente ha poi ricordato che in ambiente fluviale la legge prevede dei criteri ben precisi per le ciclabili che sono diversi da quelle di tipo urbano. La cosa assurda, ha detto Benini, è che si interviene solo su metà percorso, per di più con meno problematiche rispetto all'altro che ha un fondo rovinato e pieno di pozzanghere. Per questo e altri motivi il Comitato ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Conti per dimostrare che con meno soldi si può realizzare una ciclo pedonale sistemando l'intero percorso che va dalla Paleotta fino all'azienda Morelli. La Corte dei Conti ha questo compito, controllare che gli enti pubblici lavorino con il criterio del buon padre di famiglia che non va a sprecare soldi ma cerca di ottenere un certo risultato con il minimo dei soldi necessari. Questo è quello che chiediamo. Purtroppo abbiamo avuto una fatica enorme nel riuscire a incontrare il sindaco, gli assessori, non riusciamo neanche a capire qual è l'assessore competente, è Latonelli, è Fanesi, è il sindaco stesso. Qui non c'è nessuno contrario a questa pista, siamo tutti favorevoli, esiste da 25 anni. Vorremmo che fosse sistemata con questi criteri molto più naturali che sono molto diversi appunto da una pista urbana che veramente rovinerebbe definitivamente questo tratto. Giorgio, anche Italia Nostra è preoccupata? La preoccupazione è alta e questa iniziativa del comune ci trova tutto sommato in forte disaccordo anche perché è finito un periodo di comunicazione fra l'ente locale e le associazioni e questa diventa una chiusura forte. Ci dispiace che gli amici di Forbici abbiano ormai oggi sposato questo fare comunque, questa pista ciclabile che va fatta, va realizzata, basta, eccetera. Ecco, il sindaco è andato avanti per anni ormai diciamo dal consiglio comunale disatteso nelle conclusioni fra l'altro dall'amministrazione comunale quindi va contro anche una volontà dichiarata del consiglio. Per cui la preoccupazione è dire poco, ecco quello che ci colpisce è questa insensibilità profonda nei confronti dell'ambiente. Dopo una lunga battaglia vi siete visti questo percorso transennato, che effetto vi ha fatto? Molto brutto, anche perché come potete vedere le transenne sono come se avessero paura di chissà cosa che tutti entrassero. Volevo far presente due cose, uno che questa stradina è frequentata anche da molte signore diciamo di una certa età che la usano per andare al mare. Quindi non solo noi che possiamo passare anche delle altre strade, quindi ho delle vicine di casa che si stanno lamentando e sono preoccupatissime perché specialmente adesso che cominciano le belle giornate così. Due, volevo anche dire un'altra cosa, qui ci dicono siete i soliti talebani, non siete nessuno, la gente lo vuole. Non è vero perché noi abbiamo anche consegnato più di mille firme al sindaco verso ottobre e la maggior parte è stata con noi dicendo sì ma cosa vogliono fare. Se voi guardate sui social ci sono un sacco di persone contrarie a questa cosa, forse è ora caro sindaco che decidi di salvaguardare questo paesaggio e qui ho finito perché proprio non se ne può più.